Mi hanno detto che questo prodotto zera il livello di alcol nel sangue quando ti fanno l'alcol test. Ho bevuto un cocktail e uno sciolto. Ok, 0,5 è il limite massimo consentito dalla legge per guidare. Quanto è? È tanto. 2,39. 6 a 1 e 48. Eh, 80. Pagavano. Ma che c'è? Tanti a bere. Cosa? Premesibili. 1,25. Hai bevuto? Allora, 5 trovate la pesca, 2 ricontelli. Oh, meglio di così. Vuoi vedere cosa succede con il nuovo prodotto? Non fai un riscaldamento. Il primo medicinale studiato per controllare e abbattere il livello di tossine di etanolo contenute nei polmoni. Con effetto immediato e sicuro. Arriva Mauro. La prova. Mauro. Fisimo. Bene. Buono. Buono. Adesso rifacciamo la prova. Vediamo la misurazione del tasto al prodotto. Non è adesso? No, non so. Quindi non è detto. Ti ricordi quanto avevi prima? 1,4. Guarda adesso. Non manca niente. Non manca niente. Non è possibile. Non è possibile. Non guarda adesso. Cioè, grande costo. È legale? No. Ciao a zero. Mo lo compro. Non è che lo ha abbassato e lo ha zero proprio. Sì, è zero. Cioè, ben quella... Ben quella è uguale. Zero. No. È zero. Non ci credo. E invece esiste. Fantastico. Stai a zero. Ma lo compri rettetelo? Sì. Red notes è un prodotto di bruciore. Red notes. Da 0,96 a zero. A bit.